Il popolo grillino è in subuglio dopo l'annuncio di Alessandro Di Battista. Il deputato romano non si candiderà alle prossime politiche e la conferma ai nostri microfoni del PG5. Lei ha deciso di lasciare il Parlamento, di non ricandidarsi. E' proprio in questo momento più cruciale per la politica italiana e soprattutto per i 5 Stelle. Perché? Si può fare politica anche al di fuori delle istituzioni. Io sono un cittadino, sono stato eletto, ho portato avanti il mio mandato, lo terminerò e poi continuerò a sostenere il Movimento e a fare politica. Al di fuori dei palazzi mi sembra una scelta piuttosto normale. Fa scandalo un po' in Italia perché sono tutti abbullonati alle poltrone. Però questa sfida per le prossime politiche di primavera e per il Movimento è ancora più importante forse di quella del 2013. Il Movimento si candida alla guida del Paese. Io mi auguro, spero davvero che riusciremo a farcela perché ho piena fiducia nel Movimento e credo che soltanto nel Movimento 5 Stelle al governo riuscirà a trasformare finalmente i leggi dello Stato, le nostre proposte, a cominciare dall'abolizione di Equitalia, l'abolizione della legge Fornero perché è una vergogna e alcune misure straordinarie che servono alle piccole e medie imprese. Molti leggono questa sua decisione come un escamotaggio per non bruciare questa seconda legislatura e poi tornare più in là e prendere direttamente da Luigi Di Maio il testimone della leadership dei 5 Stelle. Sì, l'ho letto. In Italia ci sono degli esperti in dietrologia, persone che penso che qualsiasi scelta sia frutto di una strategia. Non è così, io sono così. Nei prossimi mesi mi dedicherò alla mettività politica a cominciare finché sarò parlamentare dall'abolizione di Vitalizzi perché una legge ferma al Senato è una vergogna, nel Movimento 5 Stelle vuole abolire. Successivamente voglio occuparmi di controinformazione, voglio scrivere e sostenere il Movimento attraverso altre attività al di fuori del Palazzo.